Allora amici oggi siamo qui allegramente tutti quanti insieme pronti con snow ganja per fare una piccola scrollatina sperando grande con gente che mi da del sexy ganja mi vogliono ciucciarla pelata qualcuno vuole i capezzoli ognuno ha i suoi problemi insomma niente spero in questo bastardo o in qualche food tipo lei mi serve di food e basta gli altri non ne voglio nessuno dei quattro stelle voglio solo lei che la devo dare da mangiare al mio magnifica xiaolin e lui e voglio lui ancora chiaro dai ognuno con le mani su quello che ha mi raccomando non posso vedervi però sentirò la vostra forza modi goku i maschi tocchino le loro cose le donne le loro se se avete anche maschi se siete maschi e donne vicine magari anche a vicenda così si amplifica la potenza andiamo niente fulmini o no ci mancano le mani toccati con quello che hai puoi usare un bastone qualcosa mi cazzo devi toccare solo con le mani toccati con i piedi se vuoi ho trovato la feiri ragazzi è un segno è un segno ho trovato la feiri esatto claude eccolo 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 ho trovato la feiri devo trovare il feiri il re di quella fata si c'ero quasi si che team devo usare per toa me lo insegni come si cos'è toa oh lui è fortissimo eccolo è lui è lui è abbiamo trovato dr lure vedi che abbiamo trovato dr lure terzo fulmine un altro dr lure un altro dr lure mannaggia dr lure sempre in mezzo sto cinese il colore è giusto il colore è giusto sì il colore è giusto un altro feri vedi vedi un altro feri manca il feri king il king dopo dopo feri dai 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 col feri dai col feri zapp 3 io ho zappato mezzo island ragazzi altro che zapp 3 ho finito di sboscato la mia la mia isla oh oh ma non è lui non ce l'ho comunque non è doppio comunque non è doppio ho zappato il 3 hai visto ho zappato il 3 ho zappato il 3 hai visto che l'ho zappato il 3 e non è doppio almeno almeno non è doppio ciucciatemi la pelata però è del colore sbagliato c'è no sì questo dove essere d'acqua non sto coso aspetta che dico di ciucciarmi la pelata ecco cosa vuole questo anche questo stavo aprendo ma vabbè cosa faccio zappo un altro 3 devo devo zappare un altro 3 mannaggia il 5 stelle sbagliato questo il feri più king dai abbiate fede amici non smettete di toccarvi le cose non dovete scrivere adesso toccatevi le cose devo sentirti poi l'energia sferica di goku mi raccomando cos'è il tuo ch scolato dai ci vado ci vado dimmi qual è il tuo ch scolato però almeno non è doppio 1,7,1 se trovo sekmet però ti venga a picchiare perché non voglio sekmet rompe solo il cazzo faccio anche zappo 3 dimmi se faccio zappo 3 perché io zappo oh è finito il zappo 3 per stasera ora senza zappo 3 ancora no ok via quindi niente zappo 3 ok dai fairy il re delle fairy dai il re delle fairy re delle fairy re delle fairy dai bernardo risvegliato ma maledetto di nuovo te ho neanche una kung fu girl tutto tutto food oggi tutto food 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 here we go here we go come on zappo 3 visto che sono ricco faccio zappo 3 da 200 zappo 3 dai 3 dai tu tu dai fairy esatto fairy king fairy king fairy king no niente fairy king 21 quanti ne posso prendere dalla gilda un altro zappo 3 ah non ho più spazio ho zappato 3 per niente dai vediamo mi da una scroll anche da qui niente zappo 3 per adesso mamma mia quanto roba qui mamma mia quanto roba qui po 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 guarda l'ho zappato il 3 niente esce fairy ma perchè hai scritto solo fairy vuoi scrivere fairy king ma io non sei aspetta ho anche due mystical per la scozia for the crowd per gli amici no niente maledetto pung vabbè dai non abbattiamoci almeno 5 stelle e non ce l'avevo quindi non è doppio si aggiunge la collezione si ma sai che fine fa stonat ecco ha risolto cioè lui 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 tutti doppi questi no tranne lui no questi loro due no però vera lagmaron e siara sono doppi ahhh ecco ragazzi non dimenticatevi di iscrivervi ai canali di seguirmi twitch youtube instagram facebook amazon tutto anche su ebay se mi trovate bella ciao